Buongiorno, abbiamo il piacere questa sera, come abbiamo fatto durante le feste di Natale, di ospitare la Sorridendo. Abbiamo il Presidente Meri che salutiamo, grazie Meri di averci scelto. E stiamo facendo una raccolta comune fatta da Sorridendo Orus. Come sapete si occupa di diversità a 360 gradi e soprattutto dei bambini che, come più di ogni altro, meritano di sorridere. Quest'anno l'associazione si è concentrata per raccogliere i fondi per costruire un ultimo centro che offrirà il servizio, ovviamente, di ipoterapia a tutti i bambini disabili che necessitano di questo servizio. Quindi se volete fare una piccola donazione, un piccolo gesto farete tutti insieme, è una grande cosa. A uscita, a uscita. La donazione è donata fatta, è riuscita a trovare i volontari e potete fare la vostra donazione. Noi ci aspettiamo tanto da voi. Grazie e buon'arte! Grazie, arriva! 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 Grazie! Grazie, grazie! Ciao! Grazie! Ciao! Ciao! Grazie a tutti